Presidente Pasini, la corsa ai playoff continua, grande vittoria sul San Marino 3-1? Sì, una grande vittoria, anche perché purtroppo nei primi dieci minuti abbiamo preso questo gol a freddo, purtroppo partiamo sempre con questo handicap di andare sotto nei primi minuti, entriamo evidentemente un po' molli e questo ci costringe poi a rincorrere, però abbiamo trovato oggi veramente questo gran gol di Ceccarelli, che è un giocatore che stiamo veramente ritrovando in queste ultime giornate, che sicuramente può fare molto bene, oggi ha segnato una gran doppietta, ma credo una vittoria meritata, ecco, di fronte evidentemente a un avversario che non aveva molto da dire, che però nel primo tempo ha giocato molto ordinato, per cui ci ha messo anche in difficoltà. La corsa continua, si va a Busto domenica prossima, però anche le dirette contendenti del nono posto hanno un calendario non facilissimo. Diciamo domenica, noi avremo una partita molto difficile, perché sappiamo che Busto Sizio per noi è una piazza difficile, ecco, voglio ricordare che proprio con la propria parte noi abbiamo passato la promozione della C2 e della C1, per cui abbiamo un conto un po' aperto con loro, ecco, ma a parte questo dovremo comunque, affronteremo comunque una squadra che indipendentemente dai punti è una squadra comunque che sta facendo ancora bene, ecco. Certo, diciamo, se guardiamo oggi il calendario, credo che il Venezia da questo punto di vista sia forse la squadra che ha un calendario più difficile, considerato che ha tre punti da noi, deve incontrare la Cremonese, che giocherà naturalmente per le prime posizioni, dovrà fare il derby con la Binoleff e poi va a Carrara, a Carrara che oggi è un campo difficile, oggi la carraresa ha vinto proprio con la Cremonese, per cui ho dimostrazione. Noi da questo punto di vista avremo forse, diciamo, partite un po' più semplici, un po' più facili, ma le partite sono facili sulla carta, poi sappiamo che purtroppo gli episodi te lo possono anche condizionare, ecco, questo è un dato di fatto. Prima della partita sfilata del settore giovanile, che ha parlato molto bene, oltre mille spettatori del Turina, la metà dei quali erano ragazzini del nostro settore giovanile? Ma noi sappiamo, sapete che ci teniamo molto al settore giovanile, ci abbiamo anche investito, e oggi vedere tutti questi ragazzi accompagnati dai genitori qui, è comunque una tradizione, tutti gli anni, credo che sia una bella cosa, poi evidentemente hanno dato un po' anche più di colore a questa sfida, poi naturalmente vincendo, questo naturalmente non fa che far piacere, è stata una bella giornata, insomma, anche di festa.